Ci sono anche un ex magistrato e due avvocati tra gli arrestati di una maxi operazione della Guardia di Finanza di Monza che ha sgominato un'associazione a delinquere per reati tributari e fallimentari, trasferimento fraudolento di valori, riciclaggio e corruzione. Le ordinanze sono state eseguite in provincia di Milano, Monzebrianza, Lecco, Bologna, Asti e Reggio Calabria. L'inchiesta nasce da un esposto di una lista ad opposizione di un comune della provincia di Monzebrianza che aveva denunciato presunte irregolarità nell'esecuzione di alcuni lavori pubblici portati a termine in modo non conforme al capitolato. In cambio, pubblici ufficiali avrebbero preso tangenti. Le società sono riconducibili a un imprenditore edile calabrese, Giuseppe Malaspina, residente in Brianza, accusato, tra le altre cose, di avere messo fatture per operazioni inesistenti per una montare di circa 95 milioni di euro con distrazioni patrimoniali per un valore di 234 milioni di euro. Tra i beni sequestrati nell'ambito dell'inchiesta denominata Domus Aurea c'è anche l'hotel Cassagredo di Venezia che però ha una gestione indipendente disgiunta da quella legata ai beni del geometra Giuseppe Malaspina. In manette è finito anche l'ex magistrato Gerardo Perillo che prestava servizio alla sezione fallimentare del Tribunale di Monza. Tra i beni sequestrati anche lo stabile che ospitava l'hotel Gritti di Milano a pochi metri dalla scala e un maneggio a Oggiono in provincia di Lecco. Per paura di essere scoperti alcuni degli indagati avrebbero cercato di far sparire interi fascicoli di documenti all'interno della sede operativa di V-mercate della società dell'imprendatore Malaspina ripresi in diretta dalle telecamere dei finanzieri. Con una ruspa stavano riempiendo un container di documenti per poi forse interrarlo nella stessa azienda, azione bloccata dall'arrivo delle fiamme gialle. Insieme a Malaspina nel suo passato una condanna per omicidio e a Perillo, divenuto suo avvocato consulente, sono finiti nei guai l'avvocato Fabiola Leandra Sclapari, Roberto Lucini, braccio destro ed esperto finanziario di Malaspina nonché suo prestanome, Antonio Ricchiuto, commercialista consulente, ritenuto suggeritore delle modalità di progettazione dei raggiri, Giorgio Spinelli, altro collaboratore stretto di Malaspina, il commercialista Salvatore Tamborino, l'architetto Cesare Croce e il geometra Claudio Enrico Cimnaghi. Ai domiciliari sono finiti il commercialista Giorgio Luigi Comi, la moglie di Malaspina Adriana Foti, il geometra Dario Ghezzi e Vincenzo Albano, prestanomi dell'imprenditore, gli imprenditori Vincenzo Calcopietro e Angelo Narducci, l'architetto Laura Maschio e cinque dipendenti di Malaspina. L'imprenditore, annunziato Familari, socio di Malaspina, è stato invece sottoposto al provvedimento cautelare di obbligo di dimora. Altre cinque persone sono state sottoposte ad obbligo di firma, mentre altre tre sono state sottoposte al divieto di esercizio della professione per 12 mesi.